Forza! Deve esserci uno sblocco! Avanti, avanti, avanti! Oddio mio! Avaria crimi nella stazione criogenica. Troverò i colpevoli. Li porterò a casa Sean. È una promessa. Oddio! Perché è la volta che ha fatto tutto questo? Avaria nel sblocco manuale della capsula criogenica. Avaria nello sblocco manuale della capsula criogenica. No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, c'è qualcuno! ...manuale della capsula criogenica. ...manuale della capsula criogenica. Tutti i residenti devono abbandonare immediatamente il vault. Avaria nello sblocco d'emergenza della porta. Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Grazie a tutti. 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 Che cosa ha successo qui? Dove sono tutti? Non è rimasto nulla. 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 non è rimasto nulla.